perfetto ed eccoci qui ancora una volta col nostro mini tesla siccome molti mi ha fatto delle domande e ma io le scariche non le ho viste bene perché c'era troppo sole una giornata con una luce della madonna perfetto per cui ho deciso di fare un altro video per mostrarvi bene le scariche adesso il nostro mini tesla è già acceso anche se la batteria sta andando per un po scarica adesso vediamo bene le scariche a buio bene sulla punta di scintillazione chiaramente sarà chiaramente il para fulmine le scariche cambieranno forma e dimensione perché come potete vedere ora appunto da para fulmine tenderanno già sul giallo violaceo perché attrae le scariche essendo facendo tipo da para fulmine sulla sommità più alta attrae le scariche per cui automaticamente cambieranno colore bene se avete ancora altre domande sarò felice di rispondervi ciao a tutti